Ebbè, quando non apparì più non hai delle chance particolari, lui per fortuna era un creativo assoluto, quindi scriveva libri meravigliosi, insomma ci vedevamo ogni tanto con grande gioia. Poi quando si è ammalato non sono riuscita più a vederlo ed è una grande mancanza per me, perché ci sono persone che sono punti di riferimento importanti proprio nelle nostre vite. E anche vedendoci poco però ci sentivamo, sapevamo di esistere gli uni per gli altri come si usava una volta, ma non voglio fare il pianto sulla vecchia generazione, voglio dire però che queste persone meravigliose devono essere dei modelli, anche per i giovani, per i più giovani, bisogna avere fiducia nelle qualità umane, morali, se no il mondo si sfascia, lo vediamo. E allora voi che siete giovani dovete veramente sposare questa causa, se no c'è quel qualunque iso imbetanto, imbetanto no, come hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, capito? È bello essere coraggiosi e Gianni lo era. Grazie. Grazie.